Quinta giornata del campionato di eccellenza, al campo sportivo Italo Ferrando va in scena un anticipo di lusso. La Genova Calcio arriva da una serie di tre sconfitte consecutive e oggi dovrà fare a meno di Mister Maizano, confinato in tribuna per squalifica. Dopo aver spugnato il Levante con un 2-0 nella sfida contro la San Margheritese, i biancorossi vorrebbero conquistare anche il ponente, ma l'Argentina è un adversario ostico. La squadra di Valentino Papa, in maglia bianco-nera, ancora imbattuta, ma nelle trasferte non è mai andata oltre il pareggio. Il tempo delle statistiche è terminato e allora passiamo al calcio giocato con la nostra sintesi che si apre già al 14esimo minuto con la verticalizzazione in direzione di Rossi. Il numero 9 non ci pensa su due volte e carica il destro. D'Arcole non è sicuro della traiettoria e devia con la punta delle dita in angolo. Un'azione per parte, ecco allora la carica dei Taggiaschi con Daddi e il suo solo dalla destra. Grosso si oppone bene e anche sulla successiva ribattuta dell'avversario fa bene il suo dovere bloccando alto. Quando tutti si aspettavano un rientro negli spogliatoi a reti inviolate, arriva il colpaccio della Genova Calcio nel pieno del minuto di recupero. Rimessa laterale di raso per Rossi, il quale appoggia subito verso Bevegni. Guardate che cosa si inventa con il sinistro nel centrocampista classe 1995. Una parabola perfetta che va a togliere le ragnatele dal 7. Il miglior modo per festeggiare il primo gol stagionale. Il primo tempo si chiude quindi a favore dei locali, ma grazie all'immagine al montaggio di Andrea Giannotti passiamo alla ripresa. L'Argentina preme sin da subito. Pelosi non riesce a intercettare e ciò permette a Stamilla un agevole passaggio verso Daddi. Il pressing dei difensori si fa sentire e la punta sparacchia alto. La dura legge, gol sbagliato, gol subito, non risparmi i rossoneri. Rossi galoppa sulla fascia ed effettua un corosso raso terra. L'occasione per il tapin è troppo ghiotta e Memoli non se lo lascia scappare. Questa befa alla difesa avversaria permette all'attaccante di siglare la seconda marcatura stagionale. Passano una manciata di minuti e Matteo Rossi da sfoggio della sua abilità calcistica. Pregevole il gioco di piede, ma la sassata da posizione defilata viene naturalizzata bene da Dercole. Nonostante giochi in posizione più arretrata rispetto alla scorsa stagione, Corallo è ancora capace di graffiare. Ravenga appoggia dalla destra e il raso terra di destra dall'ex Bogliasco viene leggermente redeviato, la sfera simile alla sinistra del palo. Episodio di Amo Viola al 72esimo. Stamilla si allarga e Pelosi cerca in qualche modo di ostacolarlo. Il bomber si ritrova a terra, ma l'arbitro facendo di proseguire. Rivediamo queste immagini con il replay di Adria Giannotti. Gli ospiti non ci stanno e provano ad accorciare le distanze con questo tiro radiocomandato di Hicca. Grosso c'è e respinge in tuffo. Scaburri accorre immediatamente per la ribattuta, ma l'estremo difensore è una saracinesca e blinda risultato. Poco dopo Fici crossa in maniera precisa e Daddi cerca il terzo sigillo stagionale. A dirgli di no è il solito grosso che respinge con il piede. Fiuzzi è cinico e ci prova, ma la sfera impatta su un difensore. Nulla da fare, la partita termina 2-0. Vittoria all'inglese per la Genova Calcio, frutto di una partita affrontata con la mentalità giusta. Nulla da fare per l'Argentina che torna a casa a mani vuote e nella prossima giornata affronterà il Real Valdivara.